Esce oggi il terzo capitolo del capolavoro di Alex Scott, Zero, ed Edward Zero è una macchina perfetta, porta sempre a termine la missione che l'agenzia gli affida. Dove essere stato inviato in una zona di guerra per ricoperare un dispositivo innestato nel corpo di un terrorista geneticamente modificato, l'agente Zero capirà che è sempre combattuto dalla parte sbagliata. Questo è l'inizio di un viaggio deflagrante che ribalterà tutti gli stilemi delle spy story. Ebbè, James Bond, spostate, adesso c'è lui. Jason Byrne? No, meglio.